Noto colpevole di rapina e estorsione, 27 anni spedito in carcere e per lui quasi due anni di reclusione. Nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Noto ha eseguito un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania, ufficio esecuzioni penali. L'operazione ha portato all'arresto di un cittadino italiano di 27 anni, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali, che includono reati di rapina e estorsione. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Siracusa per scontare una pena detentiva di un anno, 10 mesi e 21 giorni. Questo episodio sottolinea l'impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica e nell'applicazione della giustizia.